Buongiorno da MedlineTG, si è svolto a Venezia il quindicesimo congresso mondiale della riproduzione umana tra i principali temi, quello del dolore pelvico. Sentiamo cosa ci racconta la professoressa Alessandra Grazottin, direttore del centro di ginecologia e sessuologia del San Raffaele di Milano. Le donne si lamentano di dolore pelvico, di dolore pelvico cronico nel 12-15% dei casi e purtroppo ancora troppo spesso si dice che il dolore è psicogeno, che è psicosomatico che in qualche modo è determinato dalla psiche. Attenzione, abbiamo chiare evidenze istologiche che nelle situazioni di dolore pelvico cronico c'è una modificazione nella struttura di quattro tessuti coinvolti e che contribuiscono al dolore. La vescica, nella sindrome della vescica dolorosa noi abbiamo un incremento dei mastociti, dei mastociti dei granulati e dei mastociti vicino alle fibre del dolore. Questi tre criteri istologici li ritroviamo anche nella vestibolite vulvare, nell'endometriosi e nella sindrome del colon irritabile. Abbiamo quindi un quadro infiammatorio evidente, ma non basta. Queste molecole, queste cellule producono le molecole dell'infiammazione ma anche il fattore di crescita dei nervi che spiega l'incremento numerico delle fibre del dolore e anche la loro dislocazione. Ed è per questo che abbiamo non solo iperalgesia ma anche allodinia. Quando le fibre si superficializzano nella mucosa abbiamo un viraggio della sensazione tattile verso il bruciore orente. Questo incremento di produzione di molecole infiammatorie inonda ha anche il cervello e comporta un'iperattivazione all'interno del cervello della microglia che è praticamente la cugina all'interno del cervello del mastocita. Con quale conseguenza? L'incremento di produzione di molecole infiammatorie contribuisce alla neuroinfiammazione. Il compito della neuroglia varia e vira dalla neuroplasticità in protezione delle cellule nervose alla neurotossicità e questo contribuisce alla neuroinfiammazione che è la base della depressione associata a tutte le malattie infiammatorie croniche e in particolare per le donne al dolore pelvico cronico.